Ciao da Avsim! Aggiornamenti, situazioni, fatti che si incastrano giorno dopo giorno e veramente stiamo cercando di mantenere un equilibrio, di cercare un equilibrio tra no, Allegri resta, ormai è fatta, non c'è più scampo, non c'è più speranza e sì però hai visto quella cosa, quel dettaglio, io aspetterei ancora un pochino e allora lo dico in apertura di video, io aspetto e aspetto con fiducia tanto manca una settimana, manca una settimana al primo luglio e vediamo, vediamo che cosa succede, non è che tanto dobbiamo fare chissà che cosa nel frattempo osserviamo, restiamo alla finestra, restiamo a guardare anche perché ci sono ancora degli elementi che ci fanno sperare, che ci lasciano credere che Allegri andrà via all'inizio di luglio, come vi spiegavo anche ieri nella ricostruzione di quello che è uno scenario credibile, è uno scenario possibile, resta soltanto appunto da attendere anche se poi vediamo di notizie che confermano Allegri saldo in panchina mentre lui se ne sta in Sardegna giustamente in vacanza e insomma dopo due anni di lavoro così intensi, con grandissima serietà con grandissimo impegno e con grandissimi risultati una vacanza assolutamente meritata e cioè leggiamo per esempio di Chiellini che sostanzialmente diventerà Claudio ovviamente gemello, fratello gemello di Giorgio diventerà direttore sportivo della Next Gen cioè lo sapevamo già ma siamo all'ufficialità a breve c'è sostanzialmente la firma ma soprattutto di Magnanelli che ha accettato l'offerta della Juventus Magnanelli ha accettato l'offerta della Juventus cioè Magnanelli da assistente tecnico, comunque staff tecnico di Dionisi nel Sassuolo passa a fare staff tecnico di Allegri alla Juventus e quindi quella che era un'indiscrezione, quella che era un'ipotesi di un arricchimento diciamo, di un aggregato nuovo allo staff tecnico di Allegri dopo l'addio di Bianco, Bianco che era pure lui ex Sassuolo vice di De Zerbi, assistente di De Zerbi che doveva venire a fare il tattico che doveva venire a dare una mano, a sviluppare un po' di gioco migliore e aveva un biennale e se ne è andato a metà contratto per andare a fare l'allenatore in prima in Serie C quindi preferisce andare in Serie C ad allenare da primo allenatore piuttosto che fare l'assistente tecnico di Allegri alla Juventus e su questo ci sono anche tante storie quella che sembrava, dicevano indiscrezioni, diventa una conferma e io già qualche giorno fa, alla notizia, alla sola voce Magnanelli alla Juve mi erano un po' crollate tutte quante le certezze ero sceso da 99% di speranza di Allegri out a 1% di speranza residuo veramente un crollo perché davvero e lo confermo ancora adesso lo confermo ancora adesso, è una notizia terribile cioè se Magnanelli viene a fare l'assistente tecnico alla Juventus lo ha scelto chiaramente Allegri era un suo giocatore allenato da Allegri nel Sassuolo 15 anni fa e quindi può averlo scelto soltanto Allegri anzi, lui ha confermato di aver parlato con Allegri l'ha detto sempre ieri, qualche ora prima che venisse fuori la notizia della firma dell'accordo trovato alla gazzetta di Modena ha detto Magnanelli ho parlato con Allegri e sto valutando nel pieno di rispetto del Sassuolo e poi viene fuori che sostanzialmente ha trovato l'accordo che cosa deve venire a fare? deve venire a fare lo zoccolo duro politico di Allegri viene a fare lo staff di Allegri nel senso della sua cricca possiamo dire con tutto il rispetto per Magnanelli sarà anche bravissimo, darà anche il suo apporto però questa è la notizia che non ti aspetti nel momento in cui ancora aspetti e speri che Allegri se ne vada perché Magnanelli non è uno che viene a fare l'assistente tecnico alla Juventus per la Juventus ma per Allegri e quindi questo dovrebbe significare che Allegri è veramente confermato e veramente rimane ma ci pensate? si va ad integrare uno staff tecnico mentre lo staff complessivo, tutto quanto, deve essere esonerato dopo pochi giorni? è chiaro che non riesci a pensare a una cosa del genere poi dobbiamo vedere quando arrivano le ufficialità perché siamo ancora in assenza di tutto ciò siamo ancora secco di comunicati ufficiali da tutti i punti di vista sia sulla conferma di Allegri che poi su Chiellini, su Manna, su Magnanelli a questo punto e poi arriviamo a parlare ancora una volta pure di Giuntoli e vediamo anche se il discorso comunicati ufficiali e assunzioni di nuovi costi a bilancio fila ancora come vi ho già detto, cioè la Juve non vuole assumere nuovi costi prima del 30 giugno quindi è tutto rimandato al primo luglio però avrebbe ancora meno senso che fai? il primo luglio annunci Magnanelli e poi esoneri Allegri compreso Magnanelli capite che Magnanelli ti va a stroncare cioè lì non hai altro da dire la strada si chiude, vedi una strada sbarrata nonostante ci sono anche altri elementi che ci fanno pensare ripeto che Allegri se ne possa comunque ancora andare per esempio sicuramente anche il tweet di Maurizio Pistocchi ieri che a metà giornata ha sconquassato un po' tutto e poi ne parlo anche in un mio video sul mio secondo canale Absimaut, primo link in descrizione appunto per video brevi sul calcio e talvolta anche questi micro argomenti questi episodi social che riguardano il calcio e che sono anche delle mere curiosità su determinati aspetti ma al di là di Pistocchi con cui ho avuto modo comunque di parlare lui ha parlato di fonte diretta ha scritto di una fonte diretta che gli ha detto che Allegri non sarà l'allenatore della Juventus nella stagione 23-24 in realtà anche io ho avuto diverse informazioni in queste settimane che vanno nella stessa direzione non so quale sia la fonte di Maurizio Pistocchi però ho parlato di fonte diretta quindi una fonte di prima mano cioè qualcuno che lo sa di diretta conoscenza che non l'ha saputo da qualcun altro quindi non siamo ad una fonte di secondo grado le mie sono fonti di secondo grado cioè io ho anche di terzo cioè io ho avuto informazioni da persone che hanno parlato con altre persone a star stretti oppure che hanno parlato con altre persone che hanno parlato con altre persone e che hanno visto o che hanno sentito o che hanno letto ma ci sono tanti che ancora sostengono no non ti preoccupare Allegri è fuori Allegri se ne va Allegri sarà cacciato ma che cosa dobbiamo aspettare come ho già detto ecco soltanto che si superi la fine di questa stagione e la fine di questo bilancio forse forse o forse rimarremo con un pugno di mosche o forse ci rimarremo male però se ci sono fonti dirette che dicono che Allegri sarà in qualche modo esonerato se la conferma di Scanavino era comunque una conferma di facciata se nel frattempo i giocatori contro i tifosi contro la campagna abbonamenti è chiaro che ci sono ancora degli elementi utili che vanno in quella direzione elementi che però vanno nella direzione opposta prima di arrivare a parlare di Giuntoli su cui dobbiamo fare alcuni ragionamenti sono invece le voci di calciomercato perché se Milik può essere considerato un uomo di Giuntoli può essere considerato un giocatore scelto da lui con un Giuntoli che sta quindi già lavorando per la Juve in ipotesi non possiamo certo dire la stessa cosa di Thomas Party Thomas Party viene lanciato da Sky come indiscrezione ecco già qui a me sembra tanto che ci sia un Allegri e torniamo ci agganciamo un po' al discorso Magnanelli ci sia un Allegri quasi come una componente politica paradirigenziale all'interno della società all'interno della dirigenza che sta facendo un po' i cavoli suoi e che sta ovviamente anche cercando supporto ottenendo anzi supporto da sponde amiche come può essere Sky Sport cioè abbiamo già capito che a Sky hanno informazioni dirette da Allegri e non è un caso secondo me che un centrocampista che sarebbe quasi perfettamente allegriano venga menzionato proprio da Sky come interessamento della Juventus addirittura ha già pronto un contratto per Thomas Party il giocatore ovviamente poi ogni volta che si parla di una voce di mercato si dice sarebbe utile per Allegri appunto si prende in considerazione un Allegri che resta al suo posto e poi dobbiamo fare anche un'altra devo fare anche un'altra parentesi pure sui giornalisti in generale però che giocatore è Thomas Party ha compiuto pochi giorni fa 30 anni titolarissimo nell'Arsenal in tutte le ultime tre stagioni soprattutto questa qui integro fisicamente fino a che non mette piede alla continassa naturalmente è un giocatore di ritmo è un mediano difensivo non ti puoi aspettare da parte il tiro dalla distanza cioè il gol dalla distanza l'assist l'ultimo passaggio la costruzione offensiva però è anche un giocatore che è bravo nello strappo è bravo nella verticalizzazione è bravo quindi nella progressione sia palla al piede sia con i passaggi ma è bravo pure nell'aggressione un pochino alta cioè pure bravo a recuperare i palloni ad una certa altezza di campo oltre che naturalmente è un bel fisico magro perché insomma 77 kg però quasi 190 cm mi pare comunque abbastanza alto sicuramente robusto quindi uno di quei centrocampisti infatti si parla di parte per sostituire Rabiot cioè se Rabiot parte se parti Rabiot se parti porta parte ecco no Allegri no Parti potremmo quasi dire e quindi è un centrocampista da Allegri è un centrocampista da Allegri non completamente ma il paradosso sapete qual è che parte verrebbe messo a fare i locatelli cioè quello che finora per due anni ha dovuto fare locatelli cioè voi capite la differenza tra locatelli e Thomas Parti e al di là del valore del giocatore capite anche il fatto che si tratta di spendere 20 milioni 25 per prendere Thomas Parti che ha altri due anni di contratto con l'Arsenal portarlo via dalla Premier League Thomas Parti che rinuncerebbe di buon grado alla Champions League oltre che alla Premier League e ha 30 anni con tutto rispetto io non ho 34 quindi non posso dare dell'anziano a un trentenne però parlando di calcio vai a prendere un trentenne a 20-25 milioni è la solita Juve di tanti anni fa di tutti questi anni cioè non voglio bocciare Thomas Parti che io avrei preso al posto di Artur qualcuno lo ricorderà io nel 2020 quando si mevociferava di Artur dissi prendiamo Thomas Parti ma parliamo di tre anni fa in quel momento lì ecco anche anche prima anche al posto di Rabiola avresti potuto prendere certo non l'avresti potuto prendere a zero avresti dovuto spendere un bel po' di soldi ma quanto si è speso per Artur ah già è vero era la plusvalenza incrociata con Pjanic che poi questo lo dicono tanto anche quegli juventini perbenisti che poi se gli vai a parlare di plusvalenza fittizia ti dicono che i giudici sono cattivi poi però erano i primi a dire ma noi abbiamo speso un sacco di soldi per Danilo e per Artur soltanto perché c'era la plusvalenza incrociata cioè se lo dicono da soli poi però non ne vogliono sapere quando si tratta di giustizia sportiva chiusa la parentesi ci sarebbe da parlare anche di Timothy Weah anche lì sembra che ci sia già un accordo allora Timothy Weah può essere un giocatore anche un pochino più interessante ma anche lì non è che stiamo parlando di questo grande terzino di spinta sì un terzino abbastanza verticale ma non particolarmente offensivo non particolarmente bravo nella costruzione è un buon esterno è un buon esterno piede destro saprebbe fare entrambe le fasce ma in questo caso parliamo di un 2000 che deve ancora compiere 23 anni e quanto te lo fa pagare il Lille quanto gli devi dare vabbè tralasciamo perché poi le voci di mercato possono essere tante tante poi andranno sfumando senza lasciare una vera traccia il punto qual è che se Allegri sta facendo mercato per sé in parte in parte in parte è lo stesso Allegri che poi va a prendere Magnanelli però Thomas Partey è un'ipotesi di mercato Magnanelli firma allora di cosa stiamo parlando chi è la Juve oggi dobbiamo tornare a fare questa domanda dobbiamo tornare a chiederci chi è la Juve perché poi Milik ripeto è un acquisto può essere anche un acquisto di Giuntoli vi ho anche già parlato di giocatori contro di tutto lo spogliatoio contro di Bonucci che si muove in un certo modo Scesni in un certo modo poi però leggiamo ecco di giocatori che sarebbero tipicamente richieste di Allegri tipicamente richieste di Allegri e infatti ce ne parla Sky Sport però appunto prima di arrivare a Giuntoli parentesi sui giornalisti perché è chiaro è evidente che i giornalisti tipicamente i Juventini brancolano nel buio totale non sanno assolutamente nulla o meglio sanno un po' di cose ma non sanno che farci con queste cose è come quando a Masterchef dovevi fare la mystery box quello che è e ti capitavano 4-5 ingredienti con assenza totale degli elementi essenziali cioè magari ti mancavano proprio gli elementi base per fare un piatto quindi dovevi inventarti un piatto si doveva inventare un piatto con degli ingredienti che messi assieme non fanno nulla ecco questi sono i giornalisti i Juventini oggi totalmente nel panico però vengono a dire a noi che c'è confusione ma la confusione la dovresti risolvere tu perché io riesco quotidianamente non per adesso per vantarmi perché assolutamente semplicemente anzi è uno sforzo anche importante che cerco di fare ma perché mi viene mi riesce comunque quotidianamente di sviluppare delle analisi e dei ragionamenti anche abbastanza approfonditi su questo caos su questo stesso caos e poi invece da parte di certi giornalisti dobbiamo sentir dire tutto il contrario di tutto cioè non possiamo dare per scontata la permanenza di Allegri sulla panchina di qui a una settimana può succedere di tutto non è sicuro al 100% e bla 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 allora però io non voglio adesso screditare nessuno non mi interessa non mi interessa anzi vi ho sempre invitato a seguire tutti visto che ormai parlando di giornalisti parliamo pure di youtuber perché hanno sconfinato la loro professione non si potrebbe neanche fare l'ordine dei giornalisti che io certamente non sono tanto per gli ordini professionali ma se c'è e ha una funzione dovrebbe anche avere la funzione quella di dire che se fa il giornalista su youtube non ci dovresti stare ma questo è un altro discorso che ho già affrontato in altri casi quello che voglio dire è che se tutti questi giornalisti giuventini non sanno mettere insieme gli elementi tale è il caos ci dobbiamo chiedere perché c'è questo caos ripeto al di là della bravura delle capacità dell'impegno che non metto in discussione di tutti quanti ma perché c'è tutto quanto questo caos se Allegri è stato veramente confermato fine punto ecco ieri abbiamo avuto Lotito che ha apertamente confermato Sarri non ce n'era bisogno ma l'ha detto però l'ha detto Lotito dice ma l'ha detto Scanavino ma Scanavino come l'ha detto mica l'ha detto in una sede istituzionale e ancora porto l'esempio di Gasperini con l'Atalanta ha confermato esplicitamente foto ufficiale con i dirigenti si sono viste hanno parlato resta fine fine delle speculazioni fine dei dubbi fine delle difficoltà si può iniziare anche a lavorare sta lavorando la Juve con Allegri e per Allegri sembrerebbe di sì perché arriva Magnanelli poi però che succede che sta arrivando Giuntoli ma come si possono conciliare queste cose Giuntoli cosa viene a fare scusate viene a dire ah avete messo Claudio Chiellini direttore sportivo della Next Gen ah ok mi sta bene ah avete messo Manna direttore sportivo ah ok allora io faccio il direttore generale ah avete confermato Allegri va benissimo non ero d'accordo ma mi adeguo ah avete preso Magnanelli che posso fare avete già fatto tutto me ne vado un'altra volta allora o Giuntoli effettivamente sta già lavorando per la Juve però ci sono degli aspetti delle scelte delle decisioni che non si conciliano evidentemente con il pensiero di Giuntoli cioè non possiamo pensare che Magnanelli l'abbia chiamato Giuntoli Magnanelli dice che ha parlato con Allegri e quindi l'ha chiamato Allegri oppure Thomas Partey non è secondo me non è tanto un gioco cioè non c'entra nulla per dire o c'entra poco Thomas Partey per dire con Anghissà se volessimo fare un parallelismo ma comunque Anghissà è Anghissà di Spalletti il Thomas Partey di Allegri è un difensore centrale lo sanno tutti cioè è talmente mediano di rottura di ritmo diciamo e di strappo e di ripartenza che quasi fa il difensore centrale ecco come ha detto anche qualche giornalista mi è capitato di leggere Milinko Cesavic alla Juve con Allegri farebbe il terzino destro perché purtroppo è così sarebbe purtroppo così allora in che direzione si sta andando l'imminente arrivo di Giuntoli io vi ho detto secondo me è il passaggio fondamentale che anticipa poi l'esonero di Allegri e naturalmente l'annuncio del nuovo allenatore però è chiaro che ci sono altri elementi che ci portano a spostare l'attenzione e che ci portano a pensare che invece le cose stiano andando diversamente però al di là delle ipotesi che sono sempre diverse perché ripeto c'è tanto caos e dovremmo chiederci come mai e ripeto già solo questo dovrebbe dirci evidentemente che tutta questa conferma non c'è c'è anche da chiedersi appunto Giuntoli che figura è se viene a fare il direttore generale viene un po' spostato e quindi perché il direttore generale in questo momento è Scanavino che però è anche amministratore delegato viene un po' spostato non tanto a contatto con Allegri per cui se Giuntoli non ha scelto Allegri Allegri non ha scelto Giuntoli i due non vanno in contatto ma in contatto con Allegri ci va Mann che fa il direttore sportivo e quindi la struttura sarebbe Allegri al vertice dello staff del suo staff e poi insomma credibilissimo il suo staff più o meno sempre gli stessi poi vanno a cambiare i fisioterapisti per far vedere ma già l'hanno fatto hanno preso un responsabile un responsabile di tutta la preparazione atletica di tutte le squadre i miglioramenti non si sono visti evidentemente non era quello il punto ma comunque lui è responsabile dello staff subito sopra Allegri Manna come direttore sportivo subito sopra Manna sostanzialmente sullo stesso livello Giuntoli come direttore generale e Calvo come CFO cioè Football Officer la F sta per Football non per Financial che diciamo si affianca nel senso che Calvo ha più competenze economiche e Giuntoli più competenze sportive e quindi Calvo è l'unico che poi ha un collegamento diretto ancora verso l'alto con Scanavino e con Ferrero mentre Giuntoli sta per fatti suoi ed è organizzato solo in orizzontale con Calvo questa potrebbe essere la struttura ma Giuntoli è un uomo di campo Giuntoli va a vedere gli allenamenti è continuamente di fianco al mister si siede in panchina vuole vedere i giocatori mentre sono all'opera come può Allegri accettare questa invadenza ma come può permetterlo la Juventus un'invadenza di Giuntoli sul campo nel terreno di Allegri nel frattempo nello stesso momento in cui lasci fare di Allegri tutto quello che ha sempre fatto senza mai metterlo in discussione senza cacciarlo allora continua la cosa ad avere veramente poco senso continuiamo ad aggiungere elementi su elementi continuiamo a fare ragionamenti e valutazioni mi direte ma non sarai stanco beh un pochino sì però se non passano questi giorni cosa possiamo fare non c'è altro di cui parlare se non immaginare se non sperare che Allegri se ne vada per poter immaginare finalmente una nuova Juve diversa decisamente più forte io fremo dalla voglia di vedere una Juve più forte in campo di poter continuare a seguire la Juve e per far questo però c'è necessità dell'addio di Allegri c'è ancora la possibilità? sì parliamone parliamone sottolineamolo e cogliamo l'occasione anche per continuare a protestare con l'hashtag Allegri Out su tutti i social tutti i giorni non ci fermiamo neanche nel weekend neanche se andiamo al mare neanche se ci riposiamo non ci riposiamo da questo non ci riposiamo dall'Allegri Out continuiamo a farci sentire anche forti del flop enorme clamoroso della campagna abbonamenti che ci dice che forse il dissenso sta funzionando forse il dissenso sta vincendo se poi vinceremo la battaglia definitiva lo scopriremo nel giro forse di una settimana intanto l'arrivo di Giuntoli ripeto vediamo anche come a livello di comunicati cioè se ci sarà se Giuntoli formalmente entrerà in carica prima del primo luglio con assunzione di nuovi costi ma sarebbe ridicolo per pochi giorni oppure direttamente dal primo luglio a questo punto tutto depone per a partire dal primo luglio e di lì appunto tante cose possono ancora succedere vi ringrazio per la vostra attenzione continuiamo a battagliare hashtag Allegri Out tutti i giorni intanto ditemi la vostra sotto questo video mettete like se vi è piaciuto e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi contenuti abbonatevi al canale a partire da 99 centesimi al mese per tanti vantaggi anche sul mio server discord e seguitemi sul mio secondo canale Absim Out primo link in descrizione per video brevi sul calcio ci vediamo molto presto e fino alla fine sempre Allegri Out Grazie a tutti i giorni a tutti i giorni e inseriscizzi a tutti i giorni